Buongiorno, bentrovati, buon inizio di sabato per questa rassegna stampa che tutte le mattine apre la giornata insieme a voi, siamo qui in diretta su Fano TV, canale 17, visibile in tutte le marche ma anche sui nostri device quindi ci potete seguire anche attraverso le dirette Facebook se non siete proprio a casa davanti alla televisione con la prima tazza di caffè della giornata noi guardiamo anche il calendario e le previsioni del tempo per darvi un'infarinatura appunto completa e quindi partiamo subito dall'almanacco del giorno, guardiamo che cosa ci dice il calendario per oggi sabato 25 gennaio la Chiesa ricorda la conversione di San Paolo Apostolo, il sole sorgerà alle 7.32 e tramonterà alle 17.09 previsioni del tempo che se qualcuno di voi mette il naso fuori dalla finestra si potrà rendere conto che per questo primo inizio di mattinata non è dei migliori, ha piovuto durante la notte qui su Fano e le strade sono bagnate e in questo momento sta continuando a piovere quindi il cielo, giustamente la protezione civile delle Marche ci dice che è nuvoloso ci saranno delle parziali schiarite nei settori però culinari e costieri e meridionali ma a partire tutto questo dal pomeriggio, la mattinata non è proprio all'insegna del bello e quindi le precipitazioni ci saranno anche se deboli come in questo momento ma diffuse nei settori interni e un po' sparse a macchia di leopardo come si dice insomma per tutto il resto della regione però dalla serata assumeranno anche carattere di rovescio quindi aumenteranno di intensità è segnalato anche il limite delle nevicate che però si attesta intorno ai 1.500-1.600 metri per domenica sul fronte della pioggia migliora almeno sulla costa direi decisamente quindi ci saranno ampie schiarite nel pomeriggio anche se il cielo inizialmente a inizio giornata sarà nuvoloso e quindi possibilità di deboli e brevi piovaschi però come dicevamo nelle zone montane temperature in lieve diminuzione nei valori massimi per lunedì inizio di settimana poco parzialmente nuvoloso nessuna precipitazione temperature in diminuzione nei valori minimi quindi sostanzialmente una situazione stabile per i giorni successivi della settimana vediamo qual è un po' la tendenza instabilità nei settori montani con probabile temporaneo peggioramento nella giornata di giovedì quindi tutto sommato la settimana prossima dal punto di vista meteorologico non dovrebbe essere una settimana impegnativa soltanto giovedì sulla carta dovrebbe essere un po' peggio rispetto al resto degli altri giorni allora guardiamo subito le pagine dei giornali vi porto sulle aperture come sempre facciamo partiamo da Pesaro rifiuti che scottano la fotonotizia è questa si parla di rifiuti abbandonati con anche materiali pericolosi qui vedete con tutte le precauzioni del caso stanno probabilmente manovrando delle lastre di Eternit ma l'apertura è per l'università il patto è solo all'inizio siamo a Pesaro stretta di mano tra il sindaco Ricci e il direttore della Politecnica 50 studenti per ora ma cresceranno a Pesaro si prende anche il Duatron 800 atleti e con questo il turismo naturalmente vola perché dietro 800 atleti ci sono anche accompagnatori e compagnia cantante quindi insomma lo sport è sicuramente un volano per i periodi di vasca bassa come si dice per quanto riguarda il turismo il turismo è estivo e questo è sicuramente un asset da seguire un po' per tutte le località l'eco domenica domani a Fano tutti gli itinerari ecco qua domani lo sapete abbiamo fatto vedere anche nel telegiornale di ieri ci sarà appunto questa eco prima la prima delle due eco domeniche e quindi ci confronteremo con questo nuovo modo di vivere la domenica qui a Fano l'app contro il rifiuto selvaggio anche il Corriere Adriatico apre con i rifiuti i guai per i furbeti della raccolta perché Marche Multiservizi ha allestito un'app un'app, un'applicazione da scaricare sul telefonino per le segnalazioni e la differenziata vola al 70% si parla anche e si continua a parlare dell'inchiesta di Aerdorica l'ultima perla sono le fatture false l'inchiesta della Procura e l'audizione shock di Elvia Partners alla Commissione e quindi ci sarà un prosieguo anche per questo ma dopo vedremo un altro articolo che parla purtroppo di un risvolto poco piacevole di questa inchiesta c'è un esposto del 2014 la finanza sa tutto parla appunto il manager un anno ancora per le macerie però gli sfollati avranno la casa si parla dei terremotati delle zone marchigiane dopo tre anni e mezzo dal sisma qual è la situazione allora vediamo appunto l'app del rifiuto selvaggio nei guai i furbetti della raccolta perché ci saranno appunto queste possibilità di segnalazione vedete qui i numeri nell'infografica che delineano i contorni della raccolta differenziata appeso 70% di raccolta differenziata nei 39 comuni e dal 2017 al 2019 è aumentata del 22% e quindi insomma incrementi in doppia cifra tra le novità appunto questa applicazione per agevolare le segnalazioni e quindi evitare che ci siano i furbetti del cassoneto dei rifiuti come si dice però a Pesaro è scattato un blitz dei carabinieri contro i posteggiatori abusivi immigrato poi minaccia di denudarsi deve andare in scandescenza fuggi fuggi generale ieri all'arrivo dei carabinieri in piazzale Carducci e scattano ovviamente multe e denunce piazzale Carducci a Pesaro è un piazzale molto frequentato da appunto questa tipologia di persone un po' anche come al Foro Boario e anche al Foro Boario sono stati fatti diversi blitz delle forze dell'ordine ma il problema non sembra aver trovato una soluzione seria la Politecnica chiama la Carlo Bo insieme per una nuova università strette di mano vedete qui facce sorridenti a Palazzo Gradari c'è stata la visita del Rettore Gregori nuovo Rettore della Politecnica delle Marche che dal prossimo anno accoglierà gli studenti appunto di ingegneria e quindi si inizia a concretizzare sempre di più l'Università a Pesaro si parla di reddito di cittadinanza non solo disoccupati in 247 dovranno reinserirsi nel piano sociale la TS1 con il coordinatore che vedete qui nella foto Roberto Drago si sta occupando del rispetto del patto per l'inclusione perché il reddito di cittadinanza non è solo un bancomat al quale andare a prendere appunto con la tesserina i soldi di questo supporto importante però considera anche un percorso di inserimento nel mondo del lavoro a step però comunque questo è previsto quindi non è soltanto assistenziale ma è anche di ricollocazione il primo Duathlon appunto come abbiamo visto nel lancio di Pesaro ha presentato la manifestazione 55 km tra San Barto e poi la ciclabile sul lungomare presentata ieri l'iniziativa che porterà come avete sentito a Pesaro 800 e quasi 1000 perché sono 800 partecipanti più 200 accompagnatori e anche nel resto del Carlino si parla di università patto per il corso di ingegneria alcune imprese sono già pronte ad accogliere anche gli studenti presentato ieri appunto a Palazzo Gradari la stretta di mano tra Ricci i grillini e il settore della Politecnica Gregori perché questo consigliere grillino ha la delega all'università di cui ne abbiamo già parlato ampie volte eccoli qua i rifiuti che vedevamo nel lancio di apertura l'app speriamo che porti i risultati perché insomma queste sono scene che non vorremmo vedere il cassonetto è giallo e quindi va da sé che è quello per la plastica e invece c'è all'interno una bella bicicletta troppi rifiuti pericolosi ovviamente gettati ovunque 43 molte sono quelle per errato conferimento ma potrebbero essere sicuramente molti di più dalla prima pagina nel resto del Carlino aere d'orica vi dicevo ci sono c'è questa scure della prescrizione per alcune alcuni stralci del processo e così il processo rischia di nascere già mutilato visto che alcuni reati andranno in prescrizione nella pagina delle marche del Corriere Adriatico si parla anche anche nel Corriere Adriatico delle fatture per le operazioni fittizie aere d'orica e i bilanci creativi nuova indagine della procura e accuse nelle audizioni del Marseille e del consulente Elvia Partners però abbiamo visto che purtroppo ci potrebbero essere appunto fasi del processo e alcune parti un po' monche vedremo Pesaresi la insomma il virus che sta il coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina ma non solo Pesaresi in volo per la Cina ecco i consigli antivirus il direttore di vaccinazione aria vasta spiega come identificare i casi sospetti e tutti i numeri del dipartimento numeri di telefono le vedete qui sono all'interno dell'articolo per avere indicazioni dettagliate sul morbo e su quali sono le precauzioni da prendere andiamo a Valle Foglia si parla di un parco un nuovo parco tematico che attraversa le Marche e le Miglia Romagna e il Museo Minerario delle Miniere di Zolfo presenti in diverse zone del territorio Marchigiano e Romagnolo parco dello Zolfo si allarga ancora entra anche San Lorenzo in Solfinelli e quindi insomma ancora altri siti da poter visitare per questo parco che ripercore un po' la storia mineraria del nostro comparto domani a Fano apriamo la pagina di Fano del Corriere Adriatico prima domenica ecologica la pioggia potrebbe renderla inutile perché comunque appunto la pioggia abbassa il livello di PM10 presenti nell'aria però questo chiaramente non lo si poteva prevedere e quindi insomma porveri settili però tornano a salire ma proprio oggi sono previste nuove precipitazioni e in effetti così è stato e vedete un momento del traffico in Via Roma il blocco del traffico per tutte le auto sia inquinanti che non inquinanti è dalle 9 alle 19 l'area è quella del carnevale sostanzialmente con le chiusure e i blocchi che ormai conosciamo e dovremmo conoscere tutti più o meno a memoria ieri è arrivata una buonissima notizia una buona notizia per Fano perché la regione ha accelerato l'iter con RFI per riprensare totalmente la stazione del treno di Fano terza terza città delle Marche che via appunto il degrado e più sicurezza si appresta a vivere una nuova vita insomma immagini come questa non le vorremmo più vedere e quindi sarà una stazione completamente nuova diventerà una easy station così come vengono catalogate tutte quelle di RFI nell'albero di questo progetto così particolare una stazione completamente nuova nuovi ambienti nuove dotazioni nuova informatica insomma sarà veramente una rivoluzione per Fano che merita una stazione adeguata alla sua importanza e poi attiro la vostra attenzione su questa nuova questo nuovo lavoro di Henry Secchiaroli il commissario Moretta questa trasmissione questa serie di puntate un po' insomma tra Montalbano e insomma sarà tutta una scoperta sarà trasmessa da noi da Fano TV saremo copartene di questo progetto qui nell'articolo di Osvaldo Scatassi potrete leggere tutti i particolari però a impersonare il commissario Moretta è un volto noto sia del cinema che anche del cinema locale ma anche delle commedie in vernacolo sarà Luca Longarini vecchia conoscenza anche di Fano TV a impersonare questo personaggio il commissario Moretta e vedremo quali saranno le avventure e insomma le indagini che dovrà condurre il commissario Moretta ma insomma ce le possiamo sicuramente immaginare allora rievocati gli orrori della storia ritorniamo seri parliamo del consiglio monotematico che lunedì si terrà appunto per ripercorrere insieme agli studenti la Shoah e consiglio monotematico ma anche tante altre iniziative che abbracceranno anche il mese di febbraio con diversi appuntamenti ieri è stato presentato tutto il programma di questo progetto che per la prima volta vede coinvolti non solo gli studenti delle scuole superiori ma anche gli alunni più piccoli quelli delle medie quelli degli elementari con i quali insomma parlare di questi argomenti non è sempre facile da inquadrare da trovare le parole giuste ma sicuramente hanno trovato la formula giusta quindi la novità di quest'anno oltre a puntare riflettori sull'eccidio di Badijar ci sarà questo questo coinvolgimento degli studenti del Nuti Padalino Gandiglio il 3 febbraio alle 11 alla Mediateca Montanari appunto ci sarà un appuntamento strutturato anche per loro per attivare la loro la loro coscienza su questo su questo argomento anche nelle pagine del resto del Carlino si parla della nuova stazione che sarà operazione Macchiage RFI mette sul piatto 7 milioni di euro quindi un'operazione importante vedete qui Renato Claudio Minardi che ha dato un impulso importante a questa operazione che era nel cassetto da diverso tempo ma che aveva bisogno di un impulso in avanti questo c'è stato con la sua mozione Minardi ha accelerato l'iter e quindi potremo avere anche noi una stazione degna della nostra città domeniche a piedi scattano i divieti non ci sono ancora le navette per chi insomma parcheggia nei parcheggi adiacenti al centro che sono il foro boario parcheggio del cimitero che sono il Van Vitelli ecco magari per il Van Vitelli non ce n'è bisogno però insomma anche per gli altri tutto sommato sono quattro passi a piedi ma insomma comunque se c'era la navetta meglio era per chi sgarra ci sono multe salatissime l'abbiamo sentito ieri dal comandante della polizia locale insomma possono essere multe salatissime e anche punti alla patente se violi i forzi gli accessi con macchine inquinanti blocco quindi dalle 9 alle 19 il blocco sarà sia in entrata che in uscita lo ribadiamo perché forse questa è una cosa che non si è capita bene non è solo per chi entra ma anche per chi sta in centro e ha l'auto parcheggiata in centro non potrà uscire con la macchina dalle 9 alle 19 quindi se abitate nel centro e avete bisogno di prendere la macchina parcheggiatela fuori perché se no non la potete potrete utilizzare il male appunto spiegato ai bambini e questa è la novità che riprende anche il resto del crellino la scrittice ebrea alla Nuti lì a Levi ha incontrato gli studenti in occasione dell'uscita del suo libro romanzo per l'infanzia l'indignazione dice non basta serve anche una maturità culturale per comprendere e ricordare e farci che tutto non cada nell'oblio soprattutto per le nuove generazioni cultura alleata dell'economia con coordinamento tra festival e quindi si parla di un'iniziativa in cui la CNA è stata protagonista che incomincia a far dialogare passaggi festival con la manifestazione del jazz e vedete qui Pedini Belfiori i vertici della CNA insomma tutti quanti insieme per trovare un'alleanza culturale nella Val Cesano siamo a San Costanzo svolta verso la Green Economy per i comuni di San Costanzo Mondavia e Monteporzo guerra ai cambiamenti climatici altre tre adesioni al patto europeo le ultime pagine si parla a Senigallia del sottopasso trappola alle piramidi risarciti dopo l'incidente due ciclisti il comune ricorre a un debito fuori bilancio per 30.000 euro per aggiungere i soldi all'assicurazione per questo risarcimento per questo infortunio che c'è stato nel sottopasso e poi scivola nel fosso con la bicicletta e batte la testa un uomo sull'Arceviesi è rimasto a lungo privo di conoscenza ultime pagine Urbino questa maggioranza perde i pezzi c'è la politica in evidenza azione amministrativa inefficace PD e viva Urbino confidiamo nella sensibilità di Paganelli per evitare ogni dubbio sulla sua dipartita e quindi c'è la politica in primo piano nella pagina di Urbino del Corriere Adriatico in quella del resto del Carlino c'è cronaca furti alle auto parcheggiate all'arme a Varea e quindi insomma ma vi attiro attiro la vostra attenzione su una cosa ormai che qui è diventata storica io non la conoscevo l'ho imparata venendo qui che insomma le cipolle possono essere delle buone alleate per le provisioni del tempo e quindi oggi si rinnova il rito delle cipolle la maestra Forlini di Urbania un'eredità di famiglia che tempo farà oggi lo diranno le cipolle intanto per il 2019 ci aveva sbagliato poco dice il Carlino aveva messo solo un po' più di neve però per il resto ci aveva preso e quindi appunto diciamo è una tradizione di famiglia quella di prevedere con le foglie dell'ortaggio l'andamento climatico dei mesi a venire vedete qui sono 12 sfoglie di cipolla che vengono esposte insomma c'è tutto un c'è tutto un rito al quale si va in incontro per fare appunto di questo giorno un giorno in cui si avrà una una visione con questa modalità insomma vedremo quale sarà il risponso delle cipolle benissimo grazie per essere stati in nostra compagnia siamo arrivati in fondo questo è il numero di telefono che è sempre attivo per le vostre segnalazioni anche H24 e anche nei giorni in cui non siamo presenti con la redazione questa sera il nostro magazine 7 per occhio ripercorre tutti i fatti salienti della settimana grazie e buon fine settimana a tutti voi arrivederci a tutti